Amadori è uno dei principali leader del settore agroalimentare italiano, si avvale della collaborazione di 7.400 lavoratori. È presente su tutto il territorio nazionale con sedi, stabilimenti, filiali, agenzie, gestendo tutta la filiera integrata dalla produzione del mangime alla distribuzione del prodotto finale. Cercavamo una soluzione che rendesse più veloci le operazioni del nostro sistema gestionale. In particolare abbiamo deciso di sostituire lo storage per rispondere ad utenti sempre più esigenti, query sempre più complicati e una base dati che cresce del 25% anno su anno. Per rispondere a queste esigenze abbiamo proposto una soluzione di virtualizzazione dello storage basata su un generazione 2 del V7000 e un Flash System IBM. La soluzione Flash System IBM basata su memoria e lo stato solido è quella che garantisce le migliori prestazioni per questo tipo di storage in questo momento disponibile sul mercato. Abbiamo quindi installato sul Flash System IBM il database degli ERP e il resto degli applicativi su generazione 2 del V7000, ottenendo in questo modo un miglioramento delle prestazioni rispetto alla precedente soluzione di circa 10 volte. Le macchine stellate funzionano molto bene e siamo particolarmente soddisfatte delle performance raggiunte. Il luogo di Orsi è stato fondamentale nella scelta della soluzione. La soluzione proposta si è adattata perfettamente alle esigenze che avevamo. Grazie. Grazie a tutti